L'area naturalistica Trentova-Tresino, una delle più belle zone di Agropoli, è al centro del progetto dell'amministrazione di rilancio della città. Al fine di garantire a tutti la possibilità di usufruirne e di salvaguardarla in tutto il suo valore, l'amministrazione Coppola ha redatto delle linee guida per il corretto utilizzo di questa splendida area. Ci saranno delle regole da seguire, incentrate sul preservare la bellezza e la natura incontaminata di Trentova-Tresino. L'accesso all'area sarà aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'amministrazione ed esposto all'ingresso con apposita segnaletica. I non residenti dovranno pagare un ticket d'ingresso e conservarlo lungo l'intero percorso. I bambini al di sotto dei 14 anni dovranno essere accompagnati da adulti e potranno accedere con biciclette o simili. Il pubblico inoltre dovrà tenere un comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente, con il divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone. Sarà vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualcosa, scuoterli, inciderli o danneggiarli in qualunque modo, tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume e sarà proibita la caccia. Vietato l'ingresso ai venditori ambulanti, l'accensione di fuochi liberi e di gettare oggetti che possano provocare incendi, così come l'abbandonare nell'area rifiuti di ogni genere. I danni causati dovranno essere risarciti dal cittadino e per chi viola le linee guida potrà essere sanzionato con una somma dai 50 ai 500 euro.